Roberto Rossi ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di non confermarlo a guida della Procura di Arezzo. Secondo la delibera votata dal CSM lo scorso 24 ottobre, correlatore Pier Camillo Davigo, il magistrato aretino avrebbe compromesso il requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti almeno sotto il profilo dell'immagine. A Rossi si contestava infatti la proseguizione dell'incarico di consulenza presso la presidenza del Consiglio dei Ministri conferitogli con il governo Letta e confermato poi dal successivo esecutivo guidato da Matteo Renzi anche dopo l'apertura dell'indagine su Banca Etruria del cui consiglio di amministrazione faceva parte Pier Luigi Boschi, padre dell'allora ministro Maria Elena. Roberto Rossi ha invece sempre sostenuto che il suo incarico di consulenza era finito già nel 2015 mentre le indagini sul crack dell'istituto di credito aretino erano partite dal 2016. Sempre secondo il magistrato poi nella delibera del CSM ci sono profili di criticità talmente manifesti da non potersi esimere dall'impugnare la decisione. Il ricorso punta tutto dunque sull'eccesso di potere del ministro della giustizia Bonafede. Non poteva infatti secondo Rossi entrare nel merito dell'attività giudiziaria ma solo negli aspetti organizzativi giudicati peraltro eccellenti dai suoi stessi ispettori in passato. L'udienza per la sospensiva dovrebbe essere fissata tra fine gennaio e inizio febbraio. Se Rossi dovesse vincere tornerà alla guida della procura di Arezzo altrimenti il consiglio superiore della magistratura dovrà bandire un concorso per il suo successore.